xy destini incrociati chack sismusta scar maro abbiamo incrociato i nostri destini ed è giunta mi svesto scar sono carico sono carichissimo ti vedo molto rock spettacolo nuova espansione xy spiron 10 versione italica per pokemon dopo fates collide che è la versione inglesica è tempo di destini incrociati versione italica what's italia boy ed è qui dove i nostri destini si incrociano esattamente abbiamo anche i mazzi ho preparato tutto ho abbrandito quasi qualcosa deve ancora arrivare nei prossimi giorni arriverà tutto open the box apriamo la scatola ma che bella trax e vai 36 bustine per sognare scappo ora direi proprio di sì attenzione dopo l'esperienza inglesica ripetiamolo in qualità italica dai scass allora la mia scelta ricade su questa sca scegli quella io non conto neanche io do pure io amuzzo via io punto su quella attenzione si parte si parte stavolta facciamo diverso ok più emozione più emozione e attenzione si parte subito alla grande alla grande alla grande sì vediamo che abbiamo che cosa che cosa che cosa un bel c'è manzukic quello che ha giocato alla juventus auruccia domo fossile di cabuto legame mentale con altaria cottoni riolu ullabi ullabi iepa 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 koffing spoing 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 ma è come carino il nostro spoing era chobing però fa niente posso miglia chobing aerodactyl reversica della busta se non conoscete chobing guardate su youtube da qualche parte troverete su gogly attenzione e e voilà guardiamo con spoing riolu solosys fenneking carbink carta da versolo larvitar snorlax warmadam destinatario casuale un destinatario casuale kangaskanska adesso si chiama destinatario casuale sì quando ero più giovane si chiamava a fare gli scherzi telefonici ecco ma no continuiamo continuiamo attenzione sarà il momento sarà il momento sì è il momento di esultare perché c'è potere della memoria trainer reversolo busta grossissima e attenzione che indrò hex attenzione powerful è il bello che scrivo volevo scegliere la terza ah sì eh sì però non è capitato potrebbe essere un simbolo del destino oggi vedi i destini incrociati vinco io vabbè a chi è fa mega boss destini incrociati ci siamo incrociati quindi io vinco lo sboosting al posto tuo vabbè attenzione ma il kingdrax aspetta teniamo anche il potere della mente della memoria che si sa mai ai punti potrebbe sempre valere qualcosa sì sì no vabbè quei punti non c'è niente continuiamo continuiamo unboxing italico attenzione ancora ancora glation hex hex ancora hex attenzione spettacolo spettacolo doppio hex e due buste glation hex e ben molto bene molto bene continuiamo verso della busta un bel coffee king reversico e bryxen poi terra infuocata e ambra antica di aerodactyl ti appartengo se ci tengo mi è piaciuta questa cosa del doppio hex spettacolo faremo terza hex terza è troppo bello box fallato sarebbe spettacolo tutta hex avviamo energia vigore prendiamo vigore e poiché si tratta di vigore io non gli dico nulla assolutamente neanche io motim cincino cincin kangaska c'è kangaska attenzione e dujon attenzione mettiamo l'energia vigore come una delle carte reversolo che più ci piacciono bene bene sca questo box si è apparito molto bene molto bene mi aspetto anche secondo me la godita la troviamo la carta quella con il bordo d'oro ho scelto la busta con l'ultra ah è dentro lì certo e vabbè staremo a vedere attenzione c'è sarossis reversico il pokemon che si sente sempre solo marowak e legame mentale con altaria malefatte del team rocket questa c'è anche full art che l'abbiamo vista nella box malefatte malefatte a noi perciò non di più giardino fatato e si continua si continua ci inventiamo le nostre canzoncine ragazzi maddo carbink barmi brontanzor binecolo binocolo snowbull snowbull zigarde o zenigata oggi abbiamo deciso che zenigata ne sa un botto si è fatto una riunione nel direttivo il condominio il direttivo di condominio gli esca e zigarde eravamo io boss e 44 gatti esatto mister mime e il resto vabbè infatti andiamo avanti continuiamo continuiamo e c'era anche il codolo zucchino d'oro come si chiama mi ricordo più viola micino mago zurri c'era burmira versico tiranità questa versione questa c'è anche da pre-release c'è anche promyx y da pre-release veramente veramente bello questo artwork per tiranità uno dei pokemon più belli omaggio della pupa però grande pupa e torre caos caos torre ma la pupa quella dei cosmetici non lo so può essere vai in profumeria dalla pupa con quella carta magari ti omaggia voglio l'omaggio della pupa c'è scritto qua omaggio della pupa non so io attenzione attenzione omaggio alle secchioni non è vero vincino reversico lucario attenzione wisconsin zika zi zenigata e war madame war madame attenzione partiamo con wishmore che si evolve in wisconsin e un altro turner reversico che mi piace è un casino destinatario casone reversico ma soprattutto megatario ex ska com'è com'è ma sta risultando non lo fa da vedere anche perché dietro la telecamera è un po' difficile però sta risultando perché nella mia colonna sono già uscite tre ex quindi le possibilità che la mia busta sia bella si abbassano ulteriormente è anche una bella goccia fatata poi ska ci presenterà tutta questa serie tutta l'espansione assolutamente si 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 next week siamo pronti e attenzione dopo la ex una break spettacolo lo sai che nella tua busta sarà forse forse t'hanno lasciato il codice accogli la tua busta c'è una carta codice basta carlin turbo obergo turbo che si voglia andiamola qua vabbè io sto dimenticando per bere attenzione getto di evoluzione la pistola con la calda con la caldo l'ho capito adesso sto dimenticando per bere ci deve per dimenticare io faccio il contrario bene 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 attenzione si continua dopo due belle buste belle grosse un bel mister mime e omastar wiki tough le grame mentale con audino e potere della memoria maddosca questo potere della memoria ve lo vedo bello grosso e più che altro potrebbe servirci a tutte e due anche secondo me vedo che si fa riferimento a zigard ex zenigada ex potremmo tirarlo fuori e anche quella nella mia busta insieme alla ultra si va bene va bene sneevy jiggle pop fennekin snowbull seal il cantante sì il cantante fenneking romping zenigada omanit e wisconsin spettacolo per la tua gioia e per la sua seal è ancora vivo seal ancora vivo va bene guardate è un riferimento guardate anche lo sbosting inglese esatto pokemon fan club ma soprattutto male fatte del team rocket l'ho chiamata ed è arrivata cioè ragazzi è spettacolo figatissima dopo pregnatissima degli anni 80 figatissima nel 2016 male fatte del team rocket spettacolo full artica veramente bella la 124 di 124 la carta che chiude la collezione salvo che ci sono delle fuoriserie of course è un bel pokemon fan club reversico e direi che in questa colonna c'è regalato un sacco di cose e c'è regalato 3 trainer 3,2 trainer reversi e un'energia speciale reversica 3 carte ex una carta full art una break questa è la mia busta potrei quasi aprirla sono quattro buste però attenzione attenzione c'è ancora la possibilità che non ti abbiano lasciato neanche il corpo esatto neanche il codice troverà nel mio busto benissimo benissimo uguale infatti c'è ambra antica di erodactyl tappar tengo se ci tengo poi c'è barbapapa o barbaracle o barbabietola o barbabietola scelta noi inventiamo ma o barbabdiscan o barbabdiscan legame mentale con odino pokemon fan club e warmadam attenzione ancora due buste per sognare e abbiamo Jigglypuff, Reversico and Kabutops, Cattarara cucchiaio piegato lo Spoon di James Spoon e Borsetta Energia alcuni riferimenti che facciamo li trovate, li capite meglio se guardate anche il video inglesico e attenzione esploso e un bel cincin salute, grazie e il resto della busta a cosa prendiamo oggi? al fatto che vinco di nuovo io lo spustic mi sa che non ci bisogna neanche andare ai rigori io temo che ci siano scatte bianche attenzione partiamo con la seconda colonna la Skakolum Fenneking, Wismore, Seagl, Cotony il Pokémon del Cotunfioc Riolu, Barrabane, Attenzione Audino, Axe, parte molto bene non tanto per quello che sbusta la Skak direi che la mia colonna parte in modo soddisfacente mi esalto molto bene spettacolo e continuiamo continuiamo e la next booster attenzione seconda busta della colonna e attenzione spettacolo del turbo la carta Brack o turbo che dir si voglia bene 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 oh carta Ex e carta Turbo quindi le buste vicine portalo bene Rata, un Torre del Caos non del Caos legame mentale con Altaria me ne è fatta nel Team Rocket che ricordiamo nella mia colonna praticamente c'erano tutta sta roba e in più anche la fuoriseria esatto anche la fuoriseria che c'erano a tua busta attenzione poi c'è Lurid Lurid è il cantante di cui parlavamo prima che ci guarda dall'alto magari segui dall'altro in cielo i nostri unboxing e gioca a Pokémon che ne sai Lucario bellissimo grande artwork poi Auluccia Potere della Memoria che secondo me è molto bella anche per giocare Ambra Antica di Aerodactyl secondo me io vado a Naso vado ad Outwork come è fatta la carta poi magari una patacca ci sta guarda che faremo l'angolo delle carte a cui piace una boss che magari poi non fanno niente Binoculo Binoculo Yoro Minchino o Minchino Richmore Sneimir Yoro Reversico Marowak Rara omaggio omaggio della puba grazie e Winsing e Hauluccia Hauluccia continuiamo continuiamo sento che sta arrivando qualcosa di bello non in questa busta nella prossima c'è 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 Derling Reversico va che bello va che bello nella versione mi sembra estiva questa qua Motim terra invocata Warmadam borsetta energia e il resto della busta c'è un altro Derling c'è Derling aspetta un attimo oh doppio Derling spettacolo grande figata primavera o estate non mi ricordo siamo lì ma guarda vedere fuori sembrerebbe più estate più estate bene 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 abbiamo Explode che è esploso poi Reuniclus energia speciale in colore doppia domo fossile di caputo e Shukle e poi 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 Ska ci presenterà tutte le carte nella ormai mitica presentazione assolutamente sì e attenzione c'è Minchino Diglett Larvita Kermikin Burme Kermikin ancora doppio anche qua anche qua attenzione non è vero eccolo qua eccolo qua e attenzione attenzione c'è Slimy Reversico e Sarperion e l'evoluzione giustamente prima c'è mi ha perso uno però fa niente l'evoluzione inversa continuiamo vedi che non era lì se perché perché la mia busta ti ha scombinato il titolo anche secondo me mi sa che la busta di Sky è buona ho questo timore Mute and Grumpy Gerraro Giordino Fatato Wheezing e Malefatta del Team Rocket che poi le vedremo nel dettaglio attenzione signori diciamo che è passato un sufficiente numero di buste è vero è vero è vero Kermikin Graversico doppio Kermikin spettacolo tutto doppio qua ragazzi qua è spettacolo c'è anche l'uride abbiamo bevuto troppo è vero è vero attenzione Larvitar airodatti c'è un galo che canta e la sveglia di Ska se la sentite è la sveglia di Ska questa le gove mentale con la Kazama Chiappamiche Willy Tuff continuiamo attenzione qua deve essere buona per forza non è vero forse nella tua busta scala ci sono 4 ex secondo me borsetta energia reversica del Fox ma che bello olografico caputo ma mi vuoi dire che niente niente veramente ci potrebbe essere fuori serie ma guarda Ska rimango 5 buste abbiamo trovato solo una ex cioè ho beccato la colonna più buona del mondo esatto abbiamo beccato il box più sfigato dell'anno oppure Ska ha schiappato attenzione Kingdraw Hax full heart grande figata la 122 124 non è fuori serie ma è full heart e ci gusta un casino un bel diglett e una bella ultra per chiudere bene bene Ska attenzione cista cista però abbiamo ancora solo 4 buste e in teoria mancherebbero una ex e una carta turbo vediamo 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 in teoria perché poi le statistiche possono essere statiscate Branson Zong Branson Zong doppio il box delle carte doppie spettacolo 3 buste alla fine al traguardo a meno che la mia colonna era particolarmente schiapposa e attenzione qua non c'è nulla non cercare di attenzione 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 la chiappa mega reversico veramente veramente spettacolo e un bel Genesect X sono contento attenzione siamo però però questa cosa diminuisce le possibilità che scavinca don't worry don't worry be happy mi sa che vinci con la break mi sa che vinci con la break io la sto tirando la back dance sì certo la back dance vi auguro proprio di guardarmi ballare la break dance ragazzi ma no avete presente le statue eccola sì sì in un giorno di pioggia insieme a Giuliano guarda Wismore Snorlax e Shana l'ultima busta prima del del gran finale attenzione vediamo perché da qua si potrebbero capire molte cose da una lacrima sul viso eeeh and full art scala spettacolo grande figata reverse è nel reverse così infatti sono partito ho detto sono passato dal vederci doppio al vederci male e vabbè attenzione eccole qua allora questa è la mia busta questa è la busta di scherzo non è vero perché sento che mi sta interessando non è vero vabbè questa è la mia busta allora tanto sappiamo già che c'è la ultra della mia busta e attenzione ha invertito le buste ha invertito le buste ha invertito le buste ha invertito le buste è vero che volevo pure invertirle vorremmo trassarti no spettacolo alakazam 125 di 124 ultra rara ultra spettacolo e mi sa che scala non può vincere secondo me ha invertito le buste mentre mentre mi dispiace è un train a reversico signori ma do veramente ero convinto di aver proprio perso la grande io mi ricordavo che era come la tua la busta che avevo scelto io eh sì guardate signori cosa non c'è allora barmi cotto riolo gotica wismund la rara non c'è neanche l'anografica mi dispiace secondo me ha invertito le buste mi stai trassando ma tu pensa che facevo la cosa dell'inversione per davvero ti consegna veramente l'ultra rara beh comunque dai pazienza succede che nella mia colonna c'erano queste carte qua e nella tua queste dai siamo lì comunque fissi più o meno si equivalgono dai siamo lì bene 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 c'era una brava quindi abbiamo anche a questo punto abbiamo anche constatato che c'è stato praticamente un buco di qualcosa tipo una decina di buste eh sì però sono decisamente random in cui la mia colonna addirittura aveva 2x a fila le turbo sono solo due abbiamo verificato nell'inglese mediamente eran 3 però quando c'è la ultra rara sembra che manchi la turbo quindi un po' comunque sono equilibrate oddio equilibrate giustamente è come quando se metti il turbo è chiaro no? sì 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 è chiaro va bene tubers 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 non c'è bisogno di andare ai rigori direi che il winner is boss bellissimo bellissimo grande unboxing per destini incruciati e adesso poi andremo a sboostare anche il resto del case e poi regalano altre cose interessanti succosissime succosissime madò madò da Scala Regia da Boss allo sboosting è tutto ci vediamo alla prossima in Chuck goodbye ascoltate i galli che cantano madò grazie a tutti